Sarebbe stata la gelosia ad animare un comportamento che avrebbe rassentato l'ossessione di essere tradito dalla propria moglie, minacce, pedinamenti, insulti per lei e per il suo prosunto amante e persino l'installazione di un GPS sulla macchina della donna per controllarne tutti i movimenti. L'incubo avrebbe avuto origine nel 2018 per una donna di surbo e così un 56enne, sempre di surbo, consigliere di una cooperativa agricola del posto, sarebbe stato sottoposto al divieto di avvicinamento alle persone offese con l'applicazione anche del braccialetto elettronico per seguirne i movimenti. La donna, nei mesi scorsi, avrebbe presentato una serie di denunce assistita dall'avvocato Salvatore Dimitri. Da qualche anno, infatti, il marito era diventato geloso e ossessivo ed era ossessionato dal timore di essere tradito. A causa di aggressioni e violenze, secondo quanto denunciato, la donna avrebbe dovuto abbandonare il tetto coniugale per trasferirsi in un'altra abitazione insieme ad un figlio. Ma il 56enne avrebbe continuato a molestare la donna, a monitorarla, piazzando anche un GPS sulla macchina. Le dichiarazioni, insieme a quelle dei figli, oltre ai ferti medici presentati, sono state ritenute del tutto attendibili e concordanti dagli inquirenti e la giudice per le indagini preliminari, Silvia Saracino, la quale ha disposto il divieto di avvicinamento a carico dell'uomo con le accuse di maltrattamento in famiglia, stalking e lesioni, ravvisando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.